Buonasera, come ormai tutti sanno è stato acceso, non so per quale motivo, il secondo inceneritore a Terni per fare prove, c'è chi dice, per fare pulizia, comunque non c'erano i permessi per fare niente, quindi ho firmato un'ordinanza di chiusura. I 5 Stelle facessero pace con il cervello perché sinceramente se vogliono fare politica debbano cominciare a diventare adulti, è vero che sono sempre stati degli ignomi, ma sarebbe bene crescere. Bandecchi non è d'accordo con nessuno da nessuna parte, anzi, tantomeno sono d'accordo con i 5 Stelle, con i loro metodi che non hanno mai funzionato e che non servono assolutamente alla mazza. Certo è che il secondo inceneritore non sarà acceso a Terni, ora sarà bello spento, se la regione ha dato i permessi scoppierà un casino che non finisce più, sarà guerra vera a questo secondo inceneritore. La regione è destinata a cambiare e a passare di mano e quando sarà in mano mia andrà tutto diversamente.